e what day a tutti ciò ormai benvenuti raggio chiarina in questo nuovissimo video ebbene ragazzi in questo video voglio parlarvi di quello che già vi ho anticipato nella live di ieri sera cioè sarebbe a dire del mio prossimo viaggio in italia però voglio fare prima una piccola premessa l'ho già ringraziata per messaggio ma ci tengo tantissimo a ringraziarla anche in video voglio mandare un grazie veramente gigantesco ad alessandra mirabella che ieri sera mi ha donato la bellezza di 30 euro come contributo all'acquisto di detroit become human io sono rimasta veramente senza parole perché veramente c'è cose del genere magari non te le aspetteresti mai quando succedono rimani appunto senza parole e non lo so con un senso di gratitudine assolutamente infinito io già glielo ho detto via messaggio non penso che potrò mai ringraziarla abbastanza perché voi sapete benissimo che già mi commuovo quando qualcuno di voi magari che ne so mi dona due o cinque euro quindi già vi sono super grata in quel caso figuriamoci di fronte ad una donazione di questa entità quindi veramente alessandra ti ripeto non so che altro dire non so come riuscire ad esprimerti totalmente tutta la gratitudine che provano i tuoi confronti e tuo gesto è stato veramente bellissimo e super apprezzato perché appunto hai contribuito all'acquisto di detroit al lancio quindi hai contribuito a una serie sul canale su detroit al lancio quindi veramente grazie nell'anima ok dopo aver fatto questa piccola premessa e appunto ragazzi sono qui per annunciarvi che il prossimo mercoledì quindi sarebbe a dire il 9 maggio partirò per l'italia ovviamente per andare a trovare la mia famiglia quindi non si tratta di un viaggio di ritorno definitivo assolutamente no ma avevo bisogno comunque di tornare visto che tra l'altro a maggio sarà la festa della mamma e ci sarà il compleanno della mia mamma per cui era assolutamente necessario che io fossi presente in questo mese e quindi partirò il 9 maggio ragazzi e tornerò qui in spagna il 23 maggio perché vi dico questa cosa ragazzi perché come mi è successo l'ultima volta che ho viaggiato non ho avuto assolutamente il tempo materiale per poter registrare anche qualche video da pubblicare sporadicamente durante la mia assenza questo significa che durante questi 14 giorni sul canale non sarà pubblicato assolutamente niente ve lo dico con la morte nel cuore ragazzi perché mi dispiace nell'anima lasciare il canale morto praticamente per due settimane però come vi ho appena detto non ho avuto veramente tempo materiale per poter registrare qualcosa da pubblicare anche ogni tanto durante questi giorni di assenza quindi vi volevo chiedere umilmente scusa per questa cosa come sempre spero che nonostante la mia assenza non vi dimenticherete di me anche perché ragazzi quando tornerò e due giorni dopo uscirà a detroit e questo significa che ovviamente grazie anche ad alessandra e a chiunque avesse già deciso dovesse decidere di fare qualche altra donazione porterò detroit come serie appunto sul canale quindi sarà un grandissimo ritorno ragazzi ovviamente continuerò le serie che sto portando adesso che lascerò in sospeso appunto per queste due settimane e che altro dirvi niente volevo appunto soltanto chiedervi scusa se non ci sarò praticamente per niente in ogni caso cercherò di essere il più presente possibile sui miei social ragazzi per cui vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per instagram per telegram per facebook potete aggiungermi anche agli amici e quindi sarò cercherò di essere il più attiva possibile perlomeno sui social quindi diciamo che vi farò compagnia da lì quindi se avrete voglia di seguirmi se non l'avete ancora fatto ovviamente ve ne sarò tantissimo grata ah un'altra piccola cosa ragazzi non credo che domani porterò dei sims perché non penso che farò in tempo a registrare ed editare perché stamattina ho dovuto fare un lavoro fotografico tra virgolette quindi mi dovrò dedicare a quello prima della partenza quindi non credo che domani pubblicherò dei sims e non sono sicura al 100% di riuscire a pubblicare lunedì e martedì ovviamente cercherò di fare il possibile per pubblicare almeno gli ultimi due giorni prima della partenza se non dovessi riuscirci vi chiedo già in anticipo scusa e quindi tutto qua ragazzi quello che vi dovevo dire ve l'ho detto ringrazio ancora alessandra vi ringrazio comunque tutti per seguirmi sempre con tanta passione e tanto affetto questo video termina qui ragazzi ci vediamo comunque sui social mi raccomando mi mancherete veramente tantissimo vi mando un saluto un bacione hub dos a tutti ragazzi ciao